E carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti! Quest'oggi faremo un'altra riflessione su questa generazione shock, una generazione di adolescenti, quasi bambini, potrei dire, che sono coinvolti infatti di sangue mettendo sempre più a nudo questo vulnus della nostra società. Questi giovani così sbandati che arrivano a fare delle cose, degli atti, incredibilmente osceni dal punto di vista morale. Mi riferisco per questa generazione shock a ciò che è accaduto a Piacenza, dove una ragazzina, poco più col bambino, una ragazzina tredicenne, è morta. Si dice precipitata dal settimo piano, ma probabilmente uccisa, nel senso fatta precipitare dal settimo piano. Ovviamente usiamo il condizionale. E perché questo? Perché il dubbio sta su questo suo fidanzato quindicenne, quindi quindicenne, che praticamente era come una sorta di stalker per questa ragazzina. Questi problemi, chi se ne doveva occupare di questa problematica? Dopo che è capitato, poi escono fuori che tutti quanti, chi sapeva, chi diceva sì, in effetti era violento, era qua, era là, ma chi se ne doveva occupare? Ora, noi non sappiamo nemmeno ad oggi se effettivamente questo ragazzo l'ha fatto precipitare dal settimo piano, ma sappiamo quanto basta per dire che c'era una grande violenza. Questa ragazzina che veramente era complussata, minacciata da costui. E quella mattina, che praticamente quella mattina che lei è riuscita per andare a scuola, è vero? E lui l'aspettava sulle scale, nascosto, perché spesso dormiva lì, lì da sbandato per le scale. E probabilmente l'ha presa, l'ha picchiata e l'ha scavandata giù. Quindi l'accusa, per il momento il fascicolo è aperto per omicidio volontario. E non era nuovo. Oggi stanno emergendo delle grosse responsabilità. Perché questa ragazzina è andata anche dai servizi sociali a lamentarsi. Ma che cosa hanno fatto i servizi sociali? In che modo sono intervenuti? Che tipi di segnalazione hanno fatto? La famiglia. La famiglia. Come mai non sono intervenuti in una maniera più forte? Perché non hanno verificato? Perché adesso tutte le amiche di scuola dicono, noi sapevamo, questo veniva addirittura, la picchiava davanti a noi e picchiava anche i ragazzi soltanto perché magari la guardavano o parlavano con lei. Era ossessionato a questa età. Ma chi doveva intervenire per salvare la vita a questa tredicenne? E secondo me, quello che ha fatto perdere di più il controllo di questo personaggio, seppur giovanissimo, è stato perché, ieri è stato detto poi a storie italiane, la nostra italiana, la vita in diretta mi sembra, che la ragazzina doveva partire con la famiglia per un viaggio a Parigi. Ora immaginate che postui non le permetteva nemmeno di telefonare, di uscire con le amiche, c'è proprio nulla, proprio sapete come è proprio una avversazione enorme. Ora nel momento in cui secondo me è venuto fuori che lei doveva andare a Parigi con la famiglia, secondo me è successo lì la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma queste sono realtà che oggi non dovrebbero esistere. Dormiva sulle scale, leggo, a volte nella cantinola del condominio, perché doveva stare lì, dormiva come quei cani randaggi, no? Per vedere appena usciva di starli addosso. Ora noi non possiamo pretendere che lei tredicenne avesse, come dire, la maturità di fare di più, di ribellarsi di più. Non dovevano fare i servizi sociali, le istituzioni, la famiglia, la scuola. Anche gli amici. Si doveva intervenire. Leggo addirittura che nei giorni precedenti lei era stata visitata da un ginecologo perché aveva un'emosagia. come è venuta questa emosagia? Si pensa che ci sia stato un atto di violenza. La sorella, la sorella maggiore, questa povera tredicenne, accusa apertamente questo ragazzo e dice è lui, è lui sicuramente che la picchiava tutti i giorni. Ora gli inquirenti ovviamente ci vanno con i piedi di piombo, insomma scavano sui cellulari e sembra davvero di rivedere il film di Turetta con la cecchiettina. Veramente sembra di vedere questo film. Anche se i protagonisti sono ancora più giovani. Ma cosa vogliamo aspettare? Vogliamo aspettare che succeda alla scuola elementare questo fatto qui? Succede nell'ambito della scuola elementare. Ma dove siamo arrivati? Lo Stato deve intervenire. Intervenire? Ma dice, ma quelle sono ragazzini. Niente, la punibilità deve essere abbassata. Ma questo per quanto riguarda le punizioni esemplate. Ma bisogna seminare. Bisogna seminare nella cultura. Nella cultura del rispetto. E chiunque veda un episodio di violenza deve andare dalle forze dell'utile. Deve trovare il coraggio di denunciare. Non ci dobbiamo girare dall'altra parte. Perché poi, vedete, sempre più spesso succedono queste cose sempre con ragazzi, adolescenti. Fino a poco fa erano adulti, adesso sono adolescenti, quasi tutti, 13, 15, 17, 19, 20. Era una relazione tossica. Aveva un senso di possessività. Stiamo parlando di ragazzini di 14, 15 anni. Lui andava sotto casa, sotto la scuola. Le strappava il telefono di mano appena la vedeva telefonare. C'è un fallimento, vedete, un fallimento delle istituzioni in generale. E dice bene, quel magistrato che a ore 14 sta salendo, non ricordo il nome, dice bene, guardate, sono pienamente d'accordo con lui quando dice che che adesso bisogna smetterla di considerare bambini o ragazzini questi ragazzi di 14, 15 anni. È cambiato rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Oggi lui dice a 14, 15 anni i ragazzi ne bevono, fumano, si drogono, si picciano, fanno sesso. Quello che una volta più o meno si vociferava intorno ai 20 anni. Si è abbassato di molto l'età critica perché si vede che è venuto meno lo zoccolo duro della famiglia, dell'insegnamento. Allora lui dice rivolgiamoci alle altre civiltà giuridiche. Noi siamo rimasti la maggiorità, 18 anni. In Inghilterra, ad esempio, i reati, questi reati penali qui, sono riconosciuti dall'età di 10 anni. Quindi è condannabile anche un bambino, si può dire, di 10 anni. E in Scozia addirittura dagli 8 anni in poi si è imputabili. Purtroppo bisogna prendere atto che quando si fallisce come educazione e come scuola e come famiglia e come istituzione in generale, bisogna intervenire in altro modo. Ora, vedete, la delinquenza minorile esiste dappertutto. Qui, ad esempio, in Napoli, provincia di Napoli, ho sentito in questi giorni anche dei fatti di sangue sempre con protagonisti, poco più che ragazzini. Ma voi sapete che in alcuni ambienti malavidosi, a 14 anni, parliamo di ragazzi che già hanno dei passati da criminali, già sono allevati ad essere dei criminali perfetti già a 14 anni. Questo lo sapete che esiste, questa realtà. Allora, lo Stato deve esserci. Se lo Stato c'è e lo Stato c'è, deve intervenire prima in maniera repressiva e poi in maniera educativa. Purtroppo deve sostituirsi spesso anche alle famiglie laddove queste mancano. Quindi, mi dispiace, vedete, mi dispiace. Andiamo sempre a parlare, probabilmente, anche in questo caso, di un femminicidio. Un femminicidio di una tredicenne che il 9 novembre doveva fare 14 anni. Capite? Com'è possibile una cosa del genere? Mettiamo i mazzi di fiori, facciamo le belle parole e poi fino al prossimo morto. Vedete? Concludo dicendo questo. Per una ragazzina di queste che è morta in questo modo rendo, ce ne sono tantissime altre che vengono semplicemente, tra virgolette, picchiate, violentate, stalkerizzate, senza aggiungere agli effetti fatali come questi qua. Ma ce ne sono tante, perché la violenza non è un atto isolato, quindi bisogna intervenire sempre di più. E l'appello lo faccio proprio alle donne, alle ragazze, appena si rendono conto di denunciare, ma non ai servizi sociali, ma denunciare proprio penalmente. Non bisogna sopportare più nulla. Nulla va più sopportato. Chi lo fa una volta lo fa sempre. Non bisogna più sopportare. E queste, non ci sono più limiti. Non si deve giustificare. La gelosia, non si deve, la violenza non può essere mai tollerata, nemmeno una sola volta. Questo lo si dovrebbe capire, lo si dovrebbe insegnare. Poi ci ritroviamo a piangere. Vittime sempre più giovani. Questo è per quanto riguarda questa tredicenne morta a Piacenza, dove ovviamente questo ragazzo di 15 anni, va beh, lui gli dice che lei è caduta da sola, però c'è un quadro, come dire, indiziario, veramente molto molto forte. Quindi vediamo qui come prosegue l'inchiesta e ve ne daremo notizie. Quindi per il momento è tutto. Grazie, grazie mille dell'ascolto e un abbraccio a tutti quanti voi. Grazie mille dell'ascolto e un abbraccio a tutti quanti voi. Grazie mille dell'ascolto e un abbraccio a tutti quanti voi. Grazie mille dell'ascolto e un abbraccio a tutti quanti voi.